Ho scelto il corso di laurea in scienze dell'educazione qui a Portogruaro perché volevo diventare un educatore sociopedagogico, una figura attenta ai mutamenti sociali e alle vecchie e alle nuove marginalità. Ho trovato un corso capace di offrire spunti di riflessione sul concetto di educazione, sul concetto di persona, di sviluppo umano e le relative applicazioni in campo professionale e lavorativo. Mi trovo bene per la dimensione umana e familiare di questo polo universitario di Portogruaro. Per questo vi invito a iscrivervi al corso di laurea in scienze dell'educazione.